salve a tutti benvenuti presso la iara farm il centro sperimentale di iara collocato in puglia in provincia di foggia core sperimentale di una serie di attività che vengono svolte in più località e in più anni per validare e formulare le strategie di nutrizione più idonee per il pomodoro d'industria e il frumento e in particolar modo per offrire i programmi nutrizionali inclusi nella proposta protein pass oggi il piacere di descrivervi due prove la prima finalizzata a evidenzare l'importanza di una pratica di fertilizzazione molto importante la concimazione in presemina infatti si è visto come l'apporto di azoto e fosforo prontamente assimilabili e la combinazione sinergica di alcuni micro elementi come lo zinco possono garantire uno sviluppo dell'apparato radicale ottimale al fine di superare i freddi invernali e garantire una ripartenza subito dopo gli stessi la seconda prova invece prevede di sottoporre due varietà di filiera di frumento duro a dosaggi di azoto incrementali insieme anche all'effetto sinergico dello zolfo importante per la trasformazione dell'azoto in proteine e quindi anche la stessa sintesi proteica e pertanto stiamo utilizzando analisi fogliari per rilevare il contenuto di azoto insieme a letture e tester per ottimizzare un piano di nutrizione ad hoc per le stesse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti